...dalle prealpe c'è questa città bellissima che è Belluno, soprannominata la piccola Venezia delle montagne. Conosceremo questo territorio attraverso la storia delle persone che lo abitano, tra loro le prunipoti del grande scrittore Edino Buzzati, che passò qui la sua giovinezza. Ce lo racconta in questo bel documentario Piero Cannizzaro. Buona serata a tutti. Esistono da noi valli che non ho mai visto da nessun'altra parte, identiche ai paesaggi di certe vecchie stampe, del romanticismo. Scriveva queste parole Dino Buzzati, scrittore, giornalista e poeta, dedicandole alla sua terra natia attraversata dal Piave e alla città Veneta, dove era nato e cresciuto, la sua amata Belluno. Incorniciata dalle Dolomiti a nord e dalle prealpi a sud, Belluno è soprannominata la piccola Venezia delle montagne ed è impreziosita da un elegante centro storico, dove si affacciano palazzi nobiliari e prestigiosi monumenti. Entrata a far parte delle città Slow, Belluno è nota anche come la città delle rondini, tanto che sotto i porticati sono stati posati alcuni ombrelli che segnalano la presenza dei nidi di questi uccelli migratori. Porta a Doiona è una delle antiche porte che permettevano l'ingresso all'interno delle mura ed è uno dei simboli di questo luogo. Costruita in epoche diverse, conserva ancora i battenti rinascimentali del 1553. Anche il Monte di Pietà, realizzato all'inizio del Cinquecento, è caratterizzato dalle porte originali che si aprono sulla piazza del mercato. Qui si respira un'atmosfera ad altri tempi e su uno dei lati sorge Palazzo Miari, dove si può ammirare un foro sulla volta di portico che serviva a vedere dal primo piano chi aveva bussato al portone sottostante. Questo importante punto della città è chiamato dai bellunesi Piazza delle Erbe e ospita un mercato tradizionale con i prodotti tipici del territorio. Inoltre, sempre sulla piazza, le canne della fontana di San Lucano sono a forma di drago per richiamare lo stemma comunale e riprendere sia lo stile medievale che quello rinascimentale. Sembra che Belluno sia stata fondata nel V secolo a.C., quando i popoli primitivi si insediarono nell'arcaica Belodonum, che in celtico significa «altura luminosa». Alcune tra le più significative testimonianze artistiche e architettoniche risalgono però al dominio della Repubblica di Venezia, durato dal 1420 al 1797, tanto che numerosi scorci richiamano la suggestiva bellezza della Serenissima. Incastonata tra meravigliosi rilievi montuosi, nella località di San Pellegrino, a circa due chilometri da Belluno, è adagiata la villa in cui Dino Puzzati ha trascorso i suoi anni giovanili e, più tardi, le sue vacanze estive. Oggi questa straordinaria dimora ospita anche un'associazione culturale dedicata all'indimenticabile autore e racchiude un notevole patrimonio di memorie appartenenti al suo passato. Dell'associazione si occupano Valentina Morassutti e sua sorella Antonella, pronipoti di Dino Puzzati. La casa venne acquistata dalla famiglia Puzzati nel 1811, però era una casa costruita alla metà del Cinquecento, quindi poi venne tutta decorata tra la metà e la fine dell'Ottocento, quindi venne abbellito anche l'edificio del Granaio, che è un edificio del Seicento, e lì vediamo la chiesetta, la chiesetta rossa di San Pellegrino, che dà proprio il nome alla località e alla villa. È una chiesa del Cinquecento, le ceneri di Puzzati furono sepolte lì per trent'anni. Ora le ceneri sono sparse tra le montagne delle Domiti. Figlio di Giulio Cesare Puzzati e Alba Mantovani, Dino fu il terzo genito di quattro fratelli, nato dopo Augusto e Angelina, ma prima di Adriano Traverso. Dino, insieme alla nonna e al maggiore dei fratelli, è nato proprio nell'ultima camera a destra dell'ala ovest di Villa San Pellegrino, qui a Belluno. Era una camera ad angolo che guardava verso il piave. Gran parte della loro vita riuscivano a passarla qui, quasi sei mesi all'anno. Per il famoso scrittore, la natura e le montagne rappresentavano un'autentica ricchezza e sentiva spesso il bisogno di tornare e di immergersi tra i paesaggi della sua infanzia. Sicuramente qui lui aveva questa libertà di movimento fin da quando era bambino, perché apriva la porta e correva tra i prati, tra i campi, facevano fatica a richiamarlo per il pranzo e per la cena perché magari era nascosto tra i covoni di Fieno oppure in stalla a guardare le mucche. Insomma, era il suo secondo mondo. C'era Milano, il lavoro, gli impegni, l'arte. Belluno, secondo me, la libertà, la montagna, lo spirito proprio suo che usciva e tornava a essere bambino. Anche quando non descrive precisamente questo luogo, in realtà ci sono tantissimi riferimenti che portano a questo posto. Quindi i lettori più attenti che poi per caso hanno la fortuna di visitare questo posto, che adesso si può visitare con la nostra associazione, possono trovare dei riferimenti. Una volta un vecchio fattore della villa aveva rubato del mais e per quel furto si diceva che il suo fantasma fosse stato condannato a vagare tra le pareti del granaio. Noi da bambine lo sentivamo raccontare dal nonno Eppe e da lui e da questa loro esperienza nacque questo bellissimo racconto, si chiama proprio Lo spirito nel granaio. Questa casa, dove Buzzati nacque nel 1906, ha mantenuto inalterato il suo fascino. Inoltre, la sua magica atmosfera ispirò anche le opere grafiche e pittoriche dell'artista. Ecco, questo è un quadro che Dino dipinse nel 68 e rappresenta me e mia sorella. Io avevo quattro anni e mia sorella Valentina sette. A noi piace molto, perché anche proprio rappresenta quell'epoca, insomma, gli anni sessanta, il colore, la vivacità. Tra le stanze riecheggiano i ricordi di un'esistenza trascorsa da Dino sulle Dolomiti, immortalate nelle numerose foto che i familiari hanno raccolto. Le foto di Buzzati Bambino, i suoi genitori. E poi tutto il racconto della sua vita, i suoi articoli, i suoi amici. Un bellissimo ritratto, la sua scrittura. Un bellissimo racconto che si chiama Le cose che odio. Questa è Villa Buzzati San Pellegrino, qui a Belluno, dove ci troviamo. Esattamente proprio come adesso, la facciata tutta frescata, il granaio, il grande albero monumentale che sbuca dai tetti. Questa è la casa dove sono nato. Questi i prati dove ho imparato a camminare. Le piante tra cui bambino ho combattuto le prime battaglie con i pelli rossa. Le immagini, i momenti, le luci, le voci, da dove sono venuti i primi presentimenti, le prime esaltazioni spirituali. Da queste erbe, cespugli, alberi, fossati, viottoli, muri, stanze, corridoi, scale, libri, mobili, fienili, solai, ho ricevuto la prima poesia. Da sempre, la montagna insegna la lentezza e i suoi ritmi sono scanditi sul Nevegal, il colle di Belluno, a mezz'ora dal centro cittadino e conosciuto come la terrazza sulle Dolomiti. Con le sue cime che superano i 1600 metri, il Nevegal è frequentato dagli amanti della neve, come Fulcio Miari e Antonio Piazza. Per godere dei panorami disegnati dal Monte Grappa, dalle pale di San Martino, dalla Marmolada e dalla Gordino, Fulcio e Antonio risalgono i ripidi pentii con gli sci. Prima di iniziare la discesa sulle vette imbiancate, si tolgono le pelli di foca, strisce in tessuto sintetico che aderiscono agli sci, indispensabili per scalare i versanti. Il bello di questa zona è che proprio siamo in mezzo alla Val Belluna, al lago di Santa Croce e a Venezia. Le Dolomiti sono una delle cose più belle del creato. Osservava Dino Buzzati, incantato da questi possenti giganti di roccia, che continuano ad essere esplorati da tanti appassionati sciatori, stregati dai loro magnifici orizzonti. Sul Nevegal, la luce si rifrange sul manto soffice e nevoso. I frequentatori invernali della zona, come Michele Nens, percorrono le candide pareti con le ciaspole, a piedi o in bicicletta, oltre che con l'attrezzatura per lo sci alpinismo. Lo splendore di questo altopiano, noto come la montagna di Belluno, è rimasto intatto nonostante lo scorrere dei secoli. E il legame profondo con le usanze locali si ritrova nell'agriturismo a Faverghiera, ad oltre 1500 metri di altezza, dove regna il comunio tra l'amore per la terra e i sapori della tradizione. Marco Poverich gestisce questo posto, coltivando la propria passione per l'agricoltura animale e il territorio dell'uese del Nevegal. Vivere la montagna tutto l'anno è uno stile di vita, diciamo, nel senso che inverno ha sicuramente i suoi pregi, le sue bellezze, però lavorare con inverno è una scelta non facile, perché hai mille inconvenienti, la nera cresca più caldo del vento, hai mille punti di domanda che però vengono impagati, perché hai il panorama unico d'estate, non vedi, che paga tutti i sacrifici, tutti gli sforzi di lavorare in montagna di inverno. Qui nel turismo lavoro principalmente con mio papà, diciamo che questo era il suo sogno che un po' io ho realizzato in fatti fatica, ho preso in gestione proprio il giorno del suo compleanno, quindi è stato proprio un cerchio che si chiudeva. Attento alla freschezza e alla genginità dei decigi che porti in tavola, Marco segue la stagionità dei prodottiti, cercando di portare nei piatti solo quelli provenienti dal suo agroalismo o dalle fattorie di microferro della zona. Chi sceglie di rimanere nelle nostre montagne deve avere uno stile di vita più lento, seguire quella che è la natura e soprattutto i ritmi che lei ti impone e adattarti a quelli che sono gli andamenti che si accorciano le giornate, cioè deve avere una vita più calma, più a contatto con la natura e vivere veramente la natura e il territorio che ogni giorno può essere diverso. Questo stile slow e montanaro è adottato anche dall'amico Giorgio Sitta. In inverno, riscendendo verso il capoluogo, i sentieri del Nevegal regalano paesaggi pittoreschi, circondati da incantevoli corone montuose e immensi prati. Inoltre, i panorami sono puntellati da poche abitazioni e da fonti d'acqua purissima. Tisoi è una frazione di Belluno. Sotto le superbe vette che toccano il cielo, le case sono costruite in pietra con rifiniture in legno. Attraversando queste strade, ci si sente trasportati in un'altra epoca, a quando il mondo rurale conviveva ogni giorno con la fatica, ma anche con un grande tesoro culturale appartenente alla civiltà contadina. A Tisoi c'è ancora una storica latteria, dove si allevavano circa 150 capi di bestiame e nel moderno caseificio si lavorano quotidianamente tra i 10 e i 15 quintali di latte. Il laboratorio produce formaggi genuini come la ricotta, lo schiz e il cremoso formaggio di latteria. Le tradizioni casearie sono quelle del passato, ma si uniscono con l'innovazione. Queste delizie si possono acquistare anche nel punto vendita della latteria, gestito dalla presidente Carola Darold. In Val Belluna, non distante da Modolo, Stefano Mantegazza affronta e in bicicletta la scoperta del territorio. Il paesaggio è tutto, sono tutte strade bianche, anche un po' di asfalto, e va a toccare tutti i borghi, tutte le stradine più secondarie, strade bianche. Si scende verso Fonzaso, la parte più a sud, quindi vicino a Feltre. Si scende dalla parte destra della Val Belluna, fino a Fonzaso, poi si risale per la parte opposta. Si sale al Nevegal. Il percorso è quello del Gab e permette ai ciclisti come Stefano di attraversare zone mai viste del Bellunese, raggiungibili solo con le due ruote. Non essendo agonistico, è un po' più meditativo. Molti lo fanno in solitaria perché passi parecchie ore da solo, pedalando nei tuoi pensieri, nei boschi, senza pensare a niente. Quindi non agonismo, più meditazione, rilassamento, ritrovare se stessi. Fa bene sia la testa che il cuore. In questo splendido scenario, costituito da tipiche culture di mais e prati, inframmizzati da boschi, troneggia l'abitazione colonica di Fulcio Miari, costruita alla fine del 1800. All'interno si respira il fascino di una vecchia fattoria, dove Fulcio ama rispettare le usanze di una volta. inoltre Fulcio è un padrone di casa accogliente, sempre pronto a ricevere i suoi amici. Ehi, Stefano, sei pronto? Sei pronto? Bene, dai. Bevi un caffè? Volentieri, prima di farci. Buono. Tra queste pareti, sono custoditi tanti attrezzi legati al mondo della neve, cimeli di un universo montano, ma anche foto e altri ricordi appartenenti alla famiglia di Fulcio. Qui si svolgeva un'esistenza scandita dai cicli delle stagioni, si raccontavano storie intorno al focolare e si cucinavano piatti frugali, con i pochi ma gustosi cibi provenienti dalla campagna. Nelle vicinanze di Belluno scorre anche il torrente Tesa, il principale immissario del lago di Santa Croce, uno dei più grandi del Veneto, uno specchio d'acqua naturale e cristallina, dove si riflettono i monti dell'Alpago e del Nevegalla. Tra le cime assolate c'è anche chi, come Cristiano Gagion, prepara le Giuseppine, un delizioso dolce del carnevale bellunese. Le golose ciambelline tipiche della zona sono impastate con burro, farina e uova, prima di essere fritte e riempite di crema. Una volta le Giuseppine si mangiavano solo in occasione della festa di San Giuseppe, ma oggi, grazie al gusto delicato, allietano anche i giorni di festa del periodo carnevalesco. Vicino al lago di Santa Croce, Roberto Tonon si dedica all'attività di apicoltore. Le sue api si nutrono in un ambiente con una vegetazione variegata, che regala un'eccellente qualità al miele locale. Le tipologie prodotte, tra cui il millefiori e il miele di acacia, sono tutte molto apprezzate per la bontà del gusto. In questo contesto fiabesco, Alice Pedon è impegnata nel recupero della biodiversità delle montagne di Giammosa, ricche di erbe aromatiche e piante officinali. Prima di fondare un'azienda agricola ad oltre 1700 metri, Alice ha avuto una carriera nel campo della moda, che ha lasciato per dedicarsi al suo giardino aromatico. Ho conosciuto mio marito bellunese, che è belluno, poi tra l'altro è un territorio splendido, bellissimo, dove la natura veramente fa da protagonista. Ci è venuto naturale mettere radici qui. In particolar modo, quando abbiamo visto questo campo, questo terreno bellissimo in mezzo al bosco e a due chilometri, diciamo, dal centro, potevo veramente dar vita ad un'attività coniugando la passione per la famiglia con, di fatto, la passione poi per le piante, per la natura. Ciao, ciao, eccoci, bella. Su uno sfondo idilliaco, l'attività di Alice ruota attorno alla coltivazione di piante biologiche e alimurgiche, ovvero che crescono in modo spontaneo e che sono commestibili. Nei suoi campi colorati, dove non vengono usati i pesticidi, Alice segue a mano ogni fase, dalla semina alla raccolta, alla sfogliatura. Questo è il nostro meletto, dove abbiamo scelto di piantare circa 1700 piante. Metà meletto è stato dedicato al recupero della biodiversità e quindi cultivar di fine ottocento, nella fattispecie molto diffuse qui nella Val Belluna, Trentino, Alto Adige, e sono piante che nascono veramente resistenti, proprio perché hanno delle caratteristiche di particolare, diciamo, forza resistenza alle fitopatologie. Dai suoi raccolti biologici, Alice ricava dei cosmetici naturali di alta qualità e delle prelibatezze enogastronomiche. Come le croccanti chips di mela, ma anche dei succhi purissimi, estratti dagli alberi dei suoi campi. Alice ha deciso di adottare il passo lento e cadenzato di una natura sostenibile, lo stesso che ha abbracciato Belluno, accolta tra le città slow, grazie al rispetto di questi valori, legati al buon vivere. Costeggiando il torrente Tesa e giungendo a Chies d'Alpago, si può attraversare la foresta del Cansiglio, una risorsa preziosa per il popolo dei cimbri, che arrivarono qui nel XVIII secolo dall'Alto Piano di Asiago. Come abili boscaioli, i cimbri furono incaricati dall'arsenale di Venezia di realizzare i remi per le navi della Serenissima, costruiti con il legno dei faggi e degli abiti di questa foresta. Inoltre, dopo aver edificato ben otto villaggi tra questi monti, oggi in parte ancora abitati dalle storiche famiglie degli Azzadini, Bonato, Gandine e Slaviero, i cimbri introdussero l'artigianato degli scatoleri, vediti a intagliare assicelle di faggio, utili per confezionare oggetti di uso comune. Sulla conca di Chies d'Alpago, pascolano gli yak, enormi mammiferi originali del Tibet. Giunti su questo alto piano nel 2009, gli yak vivono allo stato brado e contribuiscono a recuperare i pascoli abbandonati e a tenere pulito il sottobosco. Di questi bovini si occupa la malga illari, nota per l'allevamento della pecora alpagota, una razza autoctona ricercata per la sua carne, che riesce ad alimentarsi su terreni marginali. Per Ilari Fullin, la sveglia suona ogni mattina intorno alle 5.30, quando si reca in stalla per iniziare a far mungere le sue pecore. Il latte che ottiene dalla mungitura è poco, ma è molto pregiato. Insieme al compagno Franco Pianon, Ilari cura i suoi animali, tra cui i 500 esemplari di questa razza ovina, caratterizzata dalla presenza di macchie sul muso e sulle zampe, a parte qualche eccezione. Una femminuzza nera, guarda che bella nera che è questa Ilari qua. Vedere? Sì. Bella. 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 Dalla pecora al pagota si ricava anche la lana, mentre con il latte lavorato a crudo, la malga produce alcuni formaggi saporiti, come il pecorino. I salumi invece provengono dalla carne di yak. Viaggiando verso Longarone, che rievoca alla memoria la tragedia del Vajont, si raggiungono le maestose montagne del Comelico Superiore, sull'embo settentrionale di Belluno, al confine con la provincia autonoma di Bolzano e con l'Austria. Avvolti dal silenzio che regna sui sentieri, si alternano abeti, larici, ma anche case e fenili, mentre le cime delle Dolomiti disegnano i contorni di questa valle, che assumono le fantasiose forme di torri, guglie e pinnacoli. Con le ciaspole, la guida alpina Alex Pivirotto percorre i versanti innevati insieme a suo figlio e a Giuliano Baracco. Alex ha cercato di trasmettere a suo figlio la passione per lo sci e l'amore per questo luogo in cui ha cresciuto. Pur vivendo qua da 40 anni, ogni giorno dietro casa scopro delle cose nuove, i paesaggi non sono mai gli stessi e quindi è come una fotografia che cambia ogni secondo. Alex collabora con il soccorso alpino, un'associazione di volontariato nata per aiutare chi si trova in pericolo ad alta quota. Negli ultimi anni, sempre più giovani sono entrati a far parte dell'associazione e il numero degli interventi è aumentato a causa della minore preparazione di chi decide di avventurarsi sui ripidi pendii. In lontananza, immense abetaie, si susseguono ai suggestivi rilievi ghiacciati. In questo microcosmo, le regole seguite dalla comunità, così come la persistenza delle tradizioni montane, sono state adottate da Danilo Mina e dalla sua amica Elena Ceso. A quasi 1900 metri, nel comune di Comelico Superiore, sorge la Malga Coltrondo, gestita da Danilo e dalla sua famiglia. Nonostante le difficoltà legate all'alta quota, trasferirsi in questa Malga ha rappresentato un progetto importante per Danilo e per sua moglie Michela. In questo luogo, fin da bambino, venivo qui con i miei genitori e c'è proprio un bel rimasto nel cuore. Sia da bambino che poi da adolescente e dopo da ragazzo e via dicendo, alla fine siamo riusciti a arrivare qui come lavoro e a condividere questo sogno con tutta la mia famiglia, che è una delle cose più belle che uno può desiderare nella vita. Noi abitiamo, qui lavoriamo per otto mesi all'anno, in periodo invernale ovviamente sentiamo il paese la sera, in periodo estivo rimaniamo qui giorno e notte. La famiglia di Danilo alleva l'Eylander, un bovino originario della Scozia, abituato a vivere sui monti allo Stato Brado. Stato Brado non vuol dire abbandonare l'animale, Stato Brado vuol dire che loro sono abituati a vivere all'aperto senza, con poche restrizioni e allora hanno bisogno comunque di essere a contatto con l'umano. Circondato dal mistero che alleggia tra i monti, Danilo ha scelto di immergersi in inverno tra questi paesaggi arcaici. L'inverno, l'inverno si sa, a 2000 metri è rigido, difficoltoso anche arrivare, d'estate è un po' più semplice, però quando uno ha la passione, nasce in questi luoghi e davvero montanaro è una cosa molto gratificante, molto bella. Chi ha dato tanto alla montagna a questo amore resterà allegato per sempre. Così, dopo secoli, il significato di queste riflessioni scritte da Dino Buzzati che nacque tra le cime bellunesi continua a riecheggiare tra queste vette e ad appartenere agli uomini che le hanno popolate fin dai tempi primordiali. Grazie a tutti.